Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti quanti, oggi piove, davano neve, davano, invece piove, però tra poco secondo me comincerà a nevicare mista pioggia, cioè pioggia mista neve. Siamo al lavoro, stiamo andando, alle 11.52, venerdì 4 dicembre 2020, ci sono 5 gradi, tra poco scenderà a 3-2 gradi, appena scende a 0 gradi comincia a nevicare, speriamo, perché la pioggia ha stupato. Poi fa un freddo gelido, che ti penetra nelle ossa a sto freddo, che cosa impressionante. Vabbè, buon appetito a tutti quanti, a stasera, ciao ciao.